Dopo che ci ha investito 3-4 milioni Devi spremere un pochino Secondo me lui è una di quelle persone Quelle aziende che alla fine È cresciuta non vendendo corsi Ma vendendo servizi da Un4U È stata la diciassettesima azienda Crescita più rapida In Australia E se ci facciamo caso Anche tipo Wave che ne parlavo l'altro giorno anche con loro Alcuni frame Di percezione sia delle ad Che soprattutto del sito Sono le stesse Cioè tutto è basato su un advertising Con citazioni di giornale, speech in tv Tutto quello che dà credibilità istantanea All'occhio della persona Buttato lì dentro un'az E spesso e volentieri anche quello che Secondo me è l'errore che facciamo noi È ok Ho creato un prodotto Oppure voglio testare una nuova strategia Prendo e registro gli ad Quando loro magari ci passano invece 6 mesi Per fare il prodotto di madonne E poi 6 mesi per fare quell'az Di un minuto Che però la fai una volta e dura da 3 anni Cioè convertita di io Tutti la vogliono copiare Tutti la fanno L'altro giorno chi è che vedevo? Rudy Mauer Come si chiama? Tutto rosso Eh tutto rosso Ha fatto una canzone come advertising Cioè facebook ads Quindi quelle cose lì Magari quelle piccolezze Che ci mettono un po' più di attenzione Si torna al discorso che la maggior parte delle persone Per come siamo stati influenzati Noi primi sa partire Vuole i soldi facili E quindi fa tutte le azioni per fare il soldo fra una settimana Quando alla fine quelli che li fanno veramente Sono quelli che si concentrano per magari 6 mesi Lavorano su qualcosa senza guadagnarci niente Però poi arrivano a Anche è vero che poi chi fa i soldi in una settimana Poi però ha una vita breve Eh le fa per due settimane Esatto C'hanno tutta una data di scadenza E anche le loro strategie funzionano All'addio Poi dopo un mese non va più Passi il tempo a A cambiare le strategie A cambiare le strategie Poi invece di fare il salto tra un business e l'altro Fai il salto tra una strategia e l'altro Infatti a me spesso capitano clienti nell'agency Infatti che mi dicono che hanno fatto mille strategie Quando poi andiamo ad analizzare insieme Quello che hanno fatto Quello che non hanno fatto Quello che ha funzionato Non ha funzionato Metto la strategia e dici Ma questo è semplicissimo Scommetti che funziona Infatti portano poi i risultati della Madonna Costi per lead bassissimi Secondo me i fondamentali sono sempre Sempre gli stessi Sempre gli stessi e funzionano Non c'è bisogno di complicarsi la vita Secondo me una cosa importantissima su quella Che ho chiesto anche prima a Gabri Poi dopo ognuno ovviamente la vede a modo suo E anche quando si I testano Quando noi in mondo marketing Agenzie di servizi eccetera Testiamo le cose Però secondo me un test per essere efficace Ci deve delle metriche Che o rispetta O che non rispetta Io ultimamente Proprio lavorando A stretto contatto Tutti insomma i partner di scaling Anche nel testare offerte Che è una cosa che poi Riengono sempre a chiedere A capo a me Ho creato delle metriche Nel senso che Se l'offerta In outbound Produce un tasso X Allora c'ha senso Continuarci a spingere Se è sotto quello C'ha senso cambiare Se faccio le ads C'hanno un CTR X Con un cost per lead X E un tasso di chiusura Y Allora c'ha senso Continuarci a spingere Se no cambio Invece quello che vedo fare le persone Faccio tre cose Una cosa Non va Magari anche Magari laggi le ads Un giorno E dici Il problema è delle ads Allora cambio le creati Ma come fai a saperlo? Cioè non ti sei dato delle metriche Che è sì o no Quindi se io misuro Un pezzo di un aereo A pressione Se mi supera un X pressione Non è buono Se mi supera Se sta in un range È buono Noi invece andiamo Completamente a caso E questo soprattutto Magari in fase iniziale Dove o è 0 O è 1 Non è che dici O è 50 O è 53 Che dici alla fine Te la fai andare bene Le persone sbagliano su quello Cioè io oggi Creo un'offerta Quindi prendo un mercato Prendo un target Creo una soluzione A un problema La testo al mercato Qual è il sistema Con cui testo? Non testo con Outbound Contenuti Ads Shout out Le faccio una L'offerta Devo testare l'offerta Questa metrica Mi corrisponde a un risultato positivo? Sì Perfetto Allora quello Lo mando In delica O comunque sia In ottimizzazione Per quella cosa E poi passa la prossima Perché è tutto caotico E questa è una cosa Che anch'io In passato Anche se ti ricordi Tu capri Facciamo Facciamo webinar funnel No Non va Facciamo allora Il group funnel Non va Facciamo il book funnel Sbagliamo E perdiamo tempo E tempo E tempo E tempo E tempo Su tutte cose banali Una grande cosa Che mi ha insegnato Uno dei miei mentori È che quando non funziona qualcosa Devi cambiare una cosa per volta Perché devi capire Se sono le ads Se è il funnel Se è la opt-in Se è la thank you page Se è il venditore E piano piano Riesci a fare l'analisi Tutto il funnel Esatto Però si torna sempre Il discorso Che tutti vogliono fare Le cose veloci E quindi Fa un test Che non può durare 35 secondi Dura magari 7 giorni Se ne vuole testare Una per volta Magari passano 3 mesi E quindi Se quando uno vuole testare Capi i dati C'ha bisogno Del tempo Io Ieri ho fatto la call Con il team commerciale E gli ho detto Ragazzi Siamo partiti Con questo nuovo gruppo Perché appunto Nell'ultimo periodo Avevamo un po' Abbandonato Il reparto Insomma commerciale A freddo Lavorazione dei lead Caldi Era rimasto solo Quella parte là Ragazzi L'obiettivo non è Che ne faccio soldi io Non è che ne fate soldi voi E non è il volume L'obiettivo è Fa azione E tracciare i dati Abbiamo preso Close Come gestionale Ho detto Preferisco Invece fare 100 contatti al giorno Ne fate 30 Ma che sia tutto tracciato E abbiamo un sistema Di evoluzione Ne ho messo solo 2 Invece che 10 Come ogni volta Prendo 10 Li metti là E quindi Mi concentro su quelli 2 Per far sì che Uno dei due O entrambi Rispettino le metriche Piano piano Concentro la formazione Su dei loro Finché loro Non possono essere un esempio Per tutti quelli nuovi Che arrivano E ci hanno Determinati task Questo è il numero minimo Di lead Questo è il numero minimo Del risultato Questo è il numero minimo Di meeting Questo è il numero minimo Di vendita Se non lo rispettiamo Andiamo a testare Una nuova metodologia Che può essere appunto Un nuovo prodotto De front end Un nuovo tipologia Di messaggio Mare un video E se ritesta Piano piano Abbiamo 6 mesi Bisogna far andare A profitto sta cosa Se non ci riesce Amen Ok Però Diamoci 6 mesi No 7 giorni No Gabri Guarda Ho fatto 150 chiamate Non mi ha risposto Nessuno Abbandono Perché questo è quello Che noi ai tempi Quanti commerciali Abbiamo cambiato Sì sì ma tuttora Anch'io Vi ho fatto un test Un paio di mesi fa All'incirca Mettendo delle storie Su Instagram Ho messo dentro Tutte le persone Che avevano scritte A fare le chiamate A freddo Ma tipo 100 persone E il risultato È stato 0 Cioè non ho praticamente Fissato neanche un appuntamento Adesso ho 3 persone Acquisto molto dietro Per la questione di tracciamento In cui ogni settimana Tiriamo le somme Vediamo ok Questa settimana C'è stato un 3% in più Un 5% in più Di meeting fissati Cosa abbiamo detto Questa settimana Rispetto alla scorsa settimana Per far sì che ci sia stato Quest'ossi di percentuale Più alta Con le metriche sotto mano Cresci Senza Non cresci Parlando di crescita Rispetto all'ultimo episodio Manfred Cosa si è voluto in azienda Si vedono le occhiaie Non so se Allora io Giustamente l'altra volta Ho detto Non volevo crescere Perché volevo Comunque Sì lavorare Ma dedicarmi alla famiglia E quindi ho deciso Di scalare l'azienda Giusto Coerente Tipico È tipico dell'imprenditore No ma in realtà La necessità È dovuta Alla complicatezza Di vivere in Italia Quindi quando c'è un'attività C'è tipo un limbo Se apri un SRL E fatturi Meno di 300 mila euro Ti uccidono di tasse E praticamente Non porti a casa niente E quindi io Avendo aperto l'SRL Ho dovuto fare il salto E quindi adesso L'obiettivo 2024 È di arrivare Al milione di euro All'anno Quindi ho credito E dall'ultima volta Che ci siamo sentiti Quali sono state le cose Che dopo che hai fatto lo switch Hai implementato Per crescere Prima di tutto Il team La delega è un discorso Molto Cioè l'ho sempre detto A tutti Ma quando poi lo vivi Su te stesso È ancora più difficile La delega è veramente difficile Ho trovato Un team forte E adesso devo essere in grado Di quando entrano i clienti Poi delegare tutto quanto Ai miei vari coach O manager Che ci sono all'interno dell'azienda Quella parte è difficile Però sono contento Con le persone che ho trovato Che tra l'altro Ho conosciuto Negli anni Insomma in cui Sono stati I vari mastermind Eccetera eccetera Quindi persone molto formate Cioè non sono persone Che ho trovato tramite Una sponsorizzata Quindi già Sono fortunato Ad avere un team Faccio Come lavoro Quindi è molto più semplice Così Lavorate completamente Da remoto Sì Purtroppo sì Dico purtroppo Perché ultimamente Mi sta pesando pure a me Ascoltavo prima il podcast Sta pesando pure a me Stare dentro La camera Lo studio L'ufficio Dentro casa Tutto il giorno 12 ore al giorno Esco per andare in palestra O per andare a prendere le bambine Basta Cioè è una cosa Alienante Invece Ascoltavo prima Quello che dicevate Che avere un ufficio Magari con Le persone che stanno lì Poi un giorno Hai litigato con la moglie Non c'è voglia Di stare dietro ai clienti Vai in ufficio Parli con qualcuno Già ti cambia l'umore Della giornata Già E diventi molto più produttivo Quello sono d'accordissimo E questa è una cosa Anche per i collaboratori Che noi diamo sempre per scontato Perché quando Intraprendiamo una collaborazione Prendiamo un collaboratore Appunto E diciamo Ok tanto la persona Macinerà sempre come se fosse una macchina Che non avrà mai problemi Scassi di questo tipo Invece ce li hanno Sì E non essendoci in contatto Visivamente Fisicamente Magari ti arrivi alla fine del mese Che di dieci cose Che dovevano essere fatte Ne sono state fatte sette Non capisci il motivo Quando sono queste Quelle problematiche Sì è verissimo E poi abbiamo assolutamente Bisogno di socializzare Non solo socializzare Io tutto il giorno parlo con i clienti Tramite computer Non è la stessa cosa No esatto Il rapporto comunque dal vivo Noi infatti un po' il podcast Questo ci ha aiutato Perché alla fine poi Tante volte Magari anche I feedback dei clienti O comunque delle persone Che lavorano con te Soprattutto dei clienti Devo dire Tante volte Magari succede Un imprevisto Cioè è stato un errore Da parte del team O un errore Da parte del cliente E se tu parli solo per messaggio In chiamata Spesso e volentieri Sembra la catastrofe Più grande Che ci poteva essere O magari Credi che dall'altra parte Sia una persona Un po' scontrosa Eccetera Poi invece magari La conosci dal vivo E risolvi tutto Cambia completamente Noi spesso e volentieri Anche con magari I clienti internazionali Eccetera Che quindi Per me Almeno personalmente Per Sofia è un po' diverso Ci parli in inglese Mi Maria Spesso e volentieri Non mi ci capisco neanche bene Quindi sembra quasi Che stai in difetto In qualcosa Poi magari Li vecchi in giro Per il mondo Dal vivo Sono super carucci Super alla mano E allora dici Ok Allora forse Era bello il rapporto Ma magari Non ci siamo Compresi bene In chiamata O per messaggio Un po' funziona così Anche con le relazioni Ma assolutamente sì Quindi quel rapporto Ci sta Anche lì Se le persone I clienti Hanno un ufficio In cui andare a far riferimento Comunque sia Da una mano Eccezionale Secondo me Entro nella modalità Di lavorare Esatto Oltre a questo Ma anche di staccare Dai ritmi di casa Cioè Lavori da casa Quindi c'è da fare Qualsiasi cosa Tu stai a casa Lavori a casa E vai tu Sì sì Capito Finisci per perdere Un sacco di tempo Un sacco di tempo Anche nelle cose Cioè Fai le pause Ti viene magari Di fare una pausa Ogni ora Perché sei a casa Tanto hai la dispensa Lì per fare lo spuntino Poi ti metti sul letto Magari a lavorare Quindi ti rilassi Ma la pausa Magari la fai anche in ufficio Solo che essendoci altre persone Magari ti confronti tu In quella pausa Magari stai crescendo Perché parli di lavoro Di business Di strategia Di quello che vuoi In realtà cresci in quella pausa Esatto È un po' come il pranzo di oggi Alla fine È tutto un implementare Poi la cosa problematica Secondo me Del lavoro da remoto È che tu non sai Le abitudini delle persone Con cui lavori Cioè Io spesso e volentieri Mi dico Perché non è stato fatto Questo lavoro qua Cioè Questa persona Non è che abbiamo Sovraccaricata del lavoro C'è stato un problema De default O stava sul divano Guardava di Max Non lo so O quello che era Comunque Stava facendo qualcos'altro Quindi Bisogna anche capire Questo Ve lo chiedo anche a voi Cioè qual è il metodo Di confronto Con il personale O comunque siete Quei collaboratori Per capire se effettivamente Sono efficienti Quello che fanno O anche Semplicemente capire Quali sono le loro passioni Dove spingere Per dargli un vantaggio Un bonus È un mestiere a parte Riuscire a capire quelle cose Infatti i manager Sono pagati tanto per questo Perché Un buon manager È quello che riesce a capire La persona che è davanti Come riesce a Spronarla A fare qualcosa Con diverse strategie Cioè magari con te Funziona Se ti insulto Con lui invece magari Se lo elogio Per dire no Per cercare di Di fargli fare qualcosa Questa secondo te è una cosa Che deve essere affrontata In un'azienda Magari già un po' più grande Delle nostre Però io ci ho provato A approcciare quel livello lì Con il team Però ancora forse Forse noi siamo un po' Indietro di fatturato È una cosa relativa ai manager O è una cosa relativa Alle char Cioè la persona che gestisce Le risorse umane Di capire Mia moglie fa questo Quali bonus dare Quali regali dare Qual è l'obiettivo E comunicarlo poi a manager Cioè una persona Che tra virgolette In azienda Faccia da Non diciamo Controllo del successo Dei clienti Ma controllo del successo Del personale Mia moglie fa questo Perché lei è manager In un'azienda Abbastanza grande L'ha fatto per anni E l'azienda dove stava Prima proprio investiva Per fare dei corsi Per riuscire a gestire Le persone E io infatti Imparo tantissimo da lei Che ogni volta che ho Magari un problema Con un cliente Con una persona nel team Eccetera eccetera Mi dice guarda Questa persona è così Quindi dovresti usare Questa tecnica Questa strategia Dovresti fare così E ora detto così Sembra pure brutto Dire tecniche o strategie Però ogni persona Ha un carattere diverso Un modo di comunicare diverso Un modo di lavorare diverso Quindi se vai dire Allo scontro Non otterrai niente Se invece riesci a trovare La chiave giusta Per le persone Lavorano di più Sono più felici Anche i clienti Sono più felici E' un mestiere a parte Secondo me E oltre tutto Questo ragionamento Super azzeccato Ci aggiungo Per lavorare Del modo che ci devono essere Delle KPI Secondo me Molto stringenti Per tracciare le cose Soprattutto quando cresci Ma anche Che tu abbia un piccolo team Cioè otto Dieci persone E non hai delle KPI Appunto che ti dicono Le cose che le persone Devono fare E vai a braccio Non capisci niente Ci vogliono delle KPI Per cui tu settimanalmente A volte Magari questa settimana Alcuni KPI Non sono stati rispettati Che fai licenzi La persona No no Capisci però Lì diventa Lì individui il problema Individui il problema Cioè dici Cacchio questa settimana Non sono entrati lì Non abbiamo fatto le vendite Capisci il motivo anche Perché Non è detto che tu lo capisca Cioè Devi sapere affrontare Hai il tuo modo di capire Tu lo riconosci il problema Però non sai il perché Di quel problema Può essere che il venditore Ha divorziato Tu magari non lo sai Assolutamente Poi devi andare a gestire Come si può gestire Capendo come parlo No no Su questo sono pienamente d'accordo Per me è vero Cioè Sono due fasi Prima il riconoscimento Del problema Seconda la gestione Del problema La gestione del problema È un lavoro a parte Secondo me Che quando uno cresce Ovviamente non può essere Un'azienda appena nata Una start up Però appena uno se lo può permettere Si dovrebbe prendere Un manager Che faccia proprio questo Di lavoro E anche trovare un manager giusto Non è semplice Anche perché poi Cambia tanto Anche dalla cultura del paese Cioè noi italiani Lavoriamo in un certo modo Ragioniamo in un certo modo In America Gli americani Lavorano in un altro E ragioni in un altro modo È molto differente Non è semplice E invece Quanto succedono Questi tipi di problemi O comunque non vengono rispettate Di determinate mansioni Prima appunto Parlavi magari Di un problema Che viene generato Cioè come l'affrontate Con i ragazzi Cioè ci sono delle sanzioni Magari anche per cose gravi No Sanzioni Allora dipende Se il problema È una cosa reiterata nel tempo Smetti di collaborare Esatto Che quella lì è licenziamento Però magari ci stanno Quelle cose Ti faccio un esempio pratico Ma non ci succede spesso Ma che non viene erogato un video Ok O saltano magari due giorni di video Sì ma se succede Tutti i mesi È un conto Se succede una volta Ogni sei mesi Ci può essere stata la distrazione Ci può essere stata Qualsiasi cosa Esatto Però quello che dico io è Nel senso Se succede una volta Magari non è mai successo ancora Però succede una cosa Come l'affronti Nel senso che Perché noi Quando ne parliamo Spesso anche con Sofia Ragioniamo Ok Questa persona qua Magari è successa Che È successo tranquillamente Che C'è proprio avuto Un imprevisto Gli si è anche rotto il computer Cioè può essere una cosa banale No Però magari ha portato Un problema in azienda Da una perdita Da un cliente Che paga 2000 euro al mese E quindi so Magari Su Un anno 24.000 euro Danno Che alla fine Non è C'è Tra virgolette È responsabilità anche mia Però non è casato Direttamente da me No Quindi Come tra virgolette Come facchia degli 24.000 euro No Non gli richiedi mai Però nel senso che Come magari Per quando fanno una cosa ottima C'è un vantaggio Come per quando fanno una cosa Diciamo Non ottima Ci deve essere anche L'altra parte Perché secondo me Sennò è sproporzionale Perché alla fine Noi ci prendiamo a carico Il lavoro No Però personalmente Io non è che ho dipendenti C'ho collaboratori Cioè ok Che magari lavorano La maggior parte del loro tempo Con me E poi magari si fanno anche Qualcos'altro E sono libri di farlo Però come a me Il cliente smette di pagare O non mi paga Se io ho Ho rogato male un servizio Secondo me Allo stesso modo Deve sta con loro Perché appunto Ne parliamo prima Esce che dei mesi Ci sono tre problemi Tu non incassi Diecimila euro Per i tre problemi Però le persone Mi paghi lo stesso Quindi Lo chiedo perché Non c'ho la soluzione Nel senso che Quello che ci indichiamo È qual è Il metodo del lavoro E questo l'ho chiesto Anche a tanti altri Magari qualsiasi È molto più grande Della nostra Che permette Alle persone Di prendersi Maggior Diciamo La maggior responsabilità È Bonus quando fa bene Multe quando fa male È semplicemente Comunica meglio La visione Cioè Sono cose Che comunque Sono semplici Allora intanto Il rinforzo positivo È quello che funziona meglio Quindi se fai bene Bonus Quello sicuramente È un motivo Di far bene il lavoro E anche perché Ti porta ad avere collaboratori Che sono orientati A lavorare bene Non a stare lì Tanto per prendere lo stipendio Esatto Purtroppo Quelli ti capiteranno Ti dico una cosa Una persona Che gestisce Un'agenzia Molto molto grande Ma Sconsigliata De mette dei bonus economici Per esempio Perché ha detto Se tu Incentivi una persona Economicamente Per un lavoro Che lui dovrebbe essere Incentivato a fare De default Ha detto Gli crei semplicemente Una concezione Sbagliata del lavoro Lui mi ha fatto l'esempio Se io e te domani Andiamo a giocare A padel O comunque Andiamo a giocare a calcetto Facciamo una squadra A noi tre Marco e Fabio Non è che io Difendo Se vengo pagato di più O faccio gol Se vengo pagato di più Allo stesso modo Deve essere Un discorso Di squadra Di obiettivo comune E che vogliamo vincere Sta cazzo di partita a calcetto Quindi non è che ti dico Gabri Difendi meglio Perché te do 5 euro Oppure Se pari il rigore Te do 20 Se segni di testa Te do 12 Allora perché tante aziende Grandi Mettono i bonus Invece economici Questa è una bella domanda Però Il discorso è che Noi li abbiamo ancora Non li abbiamo tolti Però Anche lì È da capire Che secondo me Quello serve Però alla base Ci deve stare Comunque sia La visione Guarda anche nel calcio Abbiamo fatto l'esempio del calcio Cioè Ci sta che Se tu sei in finale Dei Champions C'hai magari Non so 500 mila euro Extra sullo stipendio Però comunque Di default Cristiano Ronaldo La partita la vuole Vince E il motivo per cui gioca A quei livelli È perché C'ha la mentalità Di giocare a quei livelli E lì viene il discorso Che facevi Dell'HR Cioè lì devi intanto Selezionare I vari Ronaldo Che hanno Quella tipo di mentalità Quella visione E quindi sa Che se entrano in squadra Fanno bene Di default Poi dopo metti Dei bonus Secondo me Però con una sticella Abbastanza alta Di performance Cioè non è che ci arrivi Facendo un video In più Allora prendiamo il bonus No Cioè deve essere Una cosa un po' più complicata In modo che poi Se hai tutte le persone Più o meno Che hanno la stessa mentalità E visione Sono tutti spinti Ad arrivare a quel A quell'obiettivo Faccio l'esempio Faccio l'esempio Faccio l'esempio dell'azienda Di mia moglie Perché essendo una grande Azienda Magari Anche più adatto Addirittura C'hanno tutti Un bonus Se tutta l'azienda Raggiunge un certo tipo Di fatturato Quindi tutta la squadra Se lavora bene Poi ci sarà sempre All'interno Della squadra Qualcuno che fa di più Qualcuno che fa di meno Cioè questo è proprio È nella natura umana Però lì È un obiettivo Della squadra Sofia su questo Sta creando infatti Dei piani Di compensi Bonus Che possono succedere Nei viaggi E cose varie Per le squadre Nel senso Noi abbiamo vari team Quindi tu lo sai Poi insomma Direttore operativo Vari manager E da lì ovviamente Ci stanno dei bonus In base al team Quindi se C'è una persona Che fa bene Fa bene per la squadra E non solo per se stesso E quindi è un po' Il concetto che dicevi tu Noi abbiamo Avuto esperienze in questo Nel senso che Prima davamo solo bonus E abbiamo scoperto Abbiamo consolidato Per quanto riguarda Ovviamente il nostro caso Che non sono i bonus economici In realtà Cioè 100 euro in più 200 euro in più Quelli che sono Quanto più dei bonus E finché secondo me Siamo in dei piccoli team Si possono anche fare Ricercati sulla persona Cioè parli con la persona Capisci che è appassionata Di una determinata cosa Magari le regali La vacanza Di una determinata cosa E abbiamo messo dei bonus Di questo tipo Anche piuttosto grandi Ma la sveglia grande In realtà l'abbiamo vista Anche quando abbiamo messo delle multe Perché Vi faccio anche una domanda Sulle multe ancora Non sono troppo d'accordo Però magari la mia esperienza Non è abbastanza E invece Anche qualcosa legato Allo status Per dirti Le grandi agenzie immobiliari Tipo Remax Fanno l'evento annuale E poi premiano I migliori venditori Che sicuramente Hanno un bonus Però in realtà Anche essere Il numero uno Della Remax Il più grande Cioè a livello Di orgoglio Magari qualcuno È più spinto Da Voglio raggiungere Quello status Piuttosto che Voglio il bonus Economico E basta Pure quello potrebbe essere Dimensioni più grandi Secondo me però Sì sicuramente Se sei 20 persone Puoi fare Una cosa del genere E lì Va creato un sistema Perché poi In conto Se hai un commerciale Ti dici Ok Io valuto il commerciale Per esempio Sulla dashboard De Close C'ho la leaderboard Dove C'è sto io C'è Simone C'è Alessio Ogni mese Io so la graduatoria E lo vedo Però se io Devo valutare Una classifica Dei ragazzi Che editano i video E te lo valuto Errore Meno 5 punti C'è C'è un calcolatore E una persona Che sta lì E controlla l'azienda Dall'alto E dice no Multa 5 punti Cioè quindi Quella lì è difficile C'ha senso Perché comunque Sia anche Tra virgolette Un po' come Come anche il ruolo Magari prendi Lo stesso stipendio Ma sei associato A un ruolo maggiore Mi sia un manager Ok E tanti Motivi per cui Inventano i nomi Anche per quello Però non è semplice Poi andarlo A dargli una graduatoria Cioè come diciamo prima Una metrica Che sopra quello È X Sopra quello È Y Io nel commerciale Ce l'ho nel senso Del commerciale Ci stanno adesso Tutti i ruoli Come fosse un'azienda De network marketing Tu parti da consulente VIP Poi dopo i nomi Uno sceglie Platino Zaffino Eccetera Eccetera Ok Quindi quello è Un ruolo Come dici tu È uno status No dici Ah io so X All'interno All'interno del gruppo E ci stanno Vari livelli Però come lì È tutta una procedura Sistematica Con dei numeri Scaglione X Superi Accedi a X Se no torni indietro Accedi a Y Se no torni indietro Eccetera Eccetera Devi trovare il modo Di misurare il lavoro Di tutto il team operativo Che non so Almeno nel nostro È quasi impossibile Poi Ipoteticamente Per chi fa marketing I fads Non lo so Però Allo stesso modo Poi in base al fatturato Che generano Poi dopo dipende Ai clienti che gestiscono Un'altra cosa Invece ci ha consigliato qualcuno Per dargli uno Uno status diverso Quindi anche la voglia Di motivarsi È Affidarli Ai clienti migliori Nel senso che È sempre status Esatto E ritorna allo status Quindi tu prendi Dici ok Io lavoro per X All'interno dell'azienda Quindi è come se io lavoro per Non lo so Google Però gestisco il reparto Dell'azienda che mi piace O del progetto che mi piace Rispetto a quello che non mi piace Quindi anche quello lì Potrebbe essere ottimo C'ha le sue Dinamicità da controllo Nel senso che Scambi in continuazione Le persone sui vari progetti Secondo me Beh molto è stato Non è positiva come cosa Nessuno si abitua Quindi lì È veramente difficile Cioè Quando Fai imprenditore Alla fine questa Doverebbe essere la skill Secondo me più importante Che però va delegato Da chi fa solo quello Esatto Cioè È proprio un mestiere a parte E ti ripeto Le persone che lo fanno In grandi aziende Vengono super pagate Perché è troppo È importantissimo Beh È importante Ma è molto specifico È molto Cioè Non è una cosa Che chiunque può fare Insomma Bisogna inserire Io in realtà Ci avevo avuto l'idea Un po' Nei due mesi Sì Due mesi fa Di proprio Trovare una figura O comunque sia Rende qualcuno Dell'azienda Un HR man Manager che si occupava Solo di andare A creare nuove figure A formare All'attuali E ha creato Tutti quelli che sono Buono Su struttura Però alla fine Trovo difficoltà Perché anche lì Doresti andare a prendere Consulenze esterne Capi un attimo Perché dal mio punto di vista È utile anche Che si sia una persona Che si forma Ma che deve Conosciare bene l'azienda Quello che è stato fatto Fino ad oggi E poi testarla Però c'è anche un volume D'affari Abbastanza grande Perché tu stai lì C'è una persona Che viene pagata Solo per assumere gente E controlla la gente Però non c'è quel volume enorme O la crescita grande Come tutti i test Deve avere un budget Per poter anche andare male Tra virgolette Cioè se quella persona Non va bene Tu non devi andare In difficoltà Anche se tu riuscissi In fase di espansione Ma a creare Un procedimento Una persona Che si occupi Di avere Diciamo di tenere Il tasso di felicità Dei collaboratori alto Eh sarebbe già Un ottimo Un ottimo livello Non perché magari Le persone che lavorano con te Non sono felici Ma perché semplicemente Tu neanche ce lo sai Cioè io personalmente Non ce lo so So magari che qualcuno Ci presenta un problema Però Qualcuno ci presenta Una cosa che è Pazzesca per loro Quindi che si trovano benissimo Allo stesso modo Non per forza So se c'è Una persona Che anche per cose personali Sa bene Sta male Più produttiva Meno produttiva Non ce lo riesco a sapere Vero Quindi bisogna trovare I sistemi Abbiamo affrontato Questo argomento Cambiamo Inventa un argomento Intelligenza artificiale Marketing Come cambierà il business Interessante Te la butto lì Al giorno d'oggi Non è anche ora All'altezza Ma ancora no Però tu immagina Tra cinque anni E tra cinque anni Devo ancora vederlo Non ci ho creduto Troppo Dici Però ci sono tanti Formatori Senza fare nomi Che stanno vendendo corsi Su come sfruttare L'intelligenza artificiale Per il marketing Adesso la sfrutti tanto Più che altro Però l'unica cosa Che l'hanno a sfruttare Per fare cassa La sfrutti Faccio ragionare su una cosa Esatto L'unica cosa Per cui loro Stanno sfruttando L'intelligenza artificiale È per fare cassa È perché La loro mente conscia Quindi la loro capacità Le loro conoscenze Gli hanno spiegato Che al giorno d'oggi Se vendono un corso L'intelligenza artificiale Fanno soldi Quindi secondo me L'idea sta proprio a capo Che il modo di ragionare Secondo me Non verrà mai sostituito Su questo sono d'accordo Perché sono macchine Non sono Magari sono anche creative Però è una creatività Unica Cioè non è Custom made Ok Cioè Se io oggi Questo lo vedo anche Su quando magari L'uso per scrivere Delle cose per i clienti Eccetera Cioè Lo guardo Il risultato Ti dà un input Poi sei tu che crei L'altro giorno ho provato C'è un attimo da fa Ho scritto a Marco Ho detto Marco Non ho tempo Mi scrivi tre copy Per tre caroselli Per scaling Mi manda su whatsapp Mi ha scritto Con chat gpt Si Si vede Nel senso che E quindi come si vede quello La stessa altra persona Competitor Le riscrive Tutti simi Sono tutti uguali Però oggi Fra cinque anni Secondo me Sarà molto Tra virgolette paura Il fatto che l'intelligenza artificiale Possa diventare più intelligente Dell'uomo C'è anche poi Il ragionamento complottista No ma senza complottismo C'è Musk O anche chi ha creato Chat gpt Che dice che l'intelligenza artificiale Comunque va controllata Perché se Se cresce Si Si forma da sola Tu non la puoi controllare No? Però ti faccio un esempio Pratico Youtube automation Ok Quanto sarebbe Quanto potrebbe aiutare Avere un chat gpt avanzato Se chat gpt appunto Ti scrivesse lo script Di un video che Lui Chat gpt sa che potrà andare virale Ti scrive lo script E ti fa magari Una copertina Che sa che è clickbait Quindi molto facile Da cliccarci sopra Non pensi che sia utilizzabile Che possa essere un vantaggio Non penso che sia utilizzabile E allo stesso tempo Penso che in un futuro Non diventerà efficace Perché innanzitutto È un'erogazione Di una task Cioè tu a partì Cioè a gpt Ti puoi scegliere la nicchia Ti puoi scrivere il copy E ti puoi fare il video Cioè magari arriveremo Un giorno dove gli dici Aprimi direttamente un canale E fammi il video E pubblicalo E tu dici Ok questo è fatto Con una logica Che io umano Non ci potrò mai arrivare Per i tag Per la server Ma allo stesso tempo Qualsiasi altra persona Gli dà quell'input Arriverà Quindi tu c'hai una spinza Sì ma arriverà più velocemente O più con A tempi più o più lunghi Qui è il timing Come sempre Cioè se tu sei il primo E sfrutti il periodo Quando gli altri non lo fanno Mari c'è un vantaggio Quando arriverà a mainstream E tutti lo fanno Siamo di nuovo tutti uguali Cioè se io oggi Ho il computer più veloce del tuo Lavoro più veloce Ok E magari riesco A ottenere risultati più grandi Tra dieci anni Tutti abbiamo l'iPhone Tranquillamente dentro casa Ci abbiamo tutti La stessa produttività Quindi io la vedo più Come o Appunto Una massa di cose Che verranno tutte simili Tutte uguali E quindi Se tutti c'hanno Cento E dall'accento È come se tutti c'hanno zero Ok Però Dato che ci siamo buttati Su questo argomento Ne faccio riferimento A un'intervista fatta di Elon Musk Dove parlavano Di un futuro senza lavoro Sì Quindi robot Dell'intelligenza artificiale E reddito universale Quindi tutti Non ci avremo più il lavoro Prendiamo tutti Insomma Il reddito Perché verremo sostituiti Dalle macchine Esatto E parliamo che Questa è più interessante Come visione Futuristica Eh ma secondo me È anche un po' Spaventa un po' Una visione del genere Cioè A me personalmente Sì Nel senso Cioè Manno gli ereri Probabilmente Anche io Anzi Non la vedo possibile Ma secondo me Si arriverà a un punto Dove cominceremo Un po' A tornare indietro Sì Va come in tutto Ci saranno sempre più Prodotti Tutti standard Tutti avranno Le stesse cose Poi ritornerà L'artigianato Va cicli Guarda nel marketing Quando Quando ho iniziato io Che ho iniziato Insomma in un'onda Circa 5-6 anni fa Dove L'ottica era Nel One man company Tutto automatizzato Tu entravi Dove fa Webinar funnel Con 12 sequenze 12 If Tutte le cose Boom Cioè dovevi arrivare A comprare bottoni Mettendo solo le ads Adesso È tutto l'opposto Già Cioè adesso Il discorso è Più persone show Più Come diciamo prima Più company Poi magari Piano piano Cerca e va cicli Poi solitamente Va cicli Perché chi che comunica Che manipola un po' più Il popolo Comunica Gli altri youtuber Seguono Gli altri formatori Seguono E si ritornerà Tutto verso un'altra parte E poi si ritornerà Tutto da un'altra parte Quindi Secondo me è lo stesso Anche con Poi con il lavoro Certo Andando più in scala Sicuramente Sono cicli più lunghi Rispetto a quelli Che possono essere Il marketing Di un paese Però Tanto la fine Si ritorna sempre là Cioè Le persone vanno a cicli Ma poi Perché anche se stufano De fare le cose Certo Un cambiamento De quel tipo Che tutti smettono Di lavorare Secondo me No spero di no Perché L'uomo Per essere felice Comunque deve Deve fare qualcosa Se deve sentire importante Se deve sentire importante Secondo me deve fare qualcosa Deve risolvere i problemi Cioè tu ti senti appagato Se risolvi i problemi Può essere il lavoro Può essere qualsiasi cosa Se invece stai a casa E non fai niente Ti deprimi Sì esatto Con magari 12 Non lo sopporterai mai Sì ma è sempre il solito discorso Come ragionavano magari I nostri genitori Con il telefono touch Che era più comodo Con i tastini Come fai a cliccare E poi c'erano No lo so Però è proprio un discorso De realtà Nel senso Secondo me Veramente Già noi Parlavamo prima Del lavoro a dare modo Stavamo nella nostra isoliera Cioè pensate Sta proprio ancora dentro Cioè come se domani Per giocare Entro dentro la playstation Faccio il disco Entro dentro Gioco dentro la playstation E scappo fuori Sì sì ma io Sono d'accordissimo con te Anche io Pensando c'ho Repulsione adesso Repulsione però Ripeto io c'ho Figlie piccole Lo sono tutti Quando avranno 15 anni Magari sarà la normalità Per loro Noi che saremo Tra virgolette vecchi Nel senso Comunque generazione più grande Per noi sarà assurdo Però per loro sarà normale Come i nostri editori Con i social Alla fine Boomer Saremo i prossimi boomer Ai ai Boomer rigli Guarda anche solamente Come riesci a conoscere Una ragazza O un ragazzo No A livello amoroso Prima si andava in discoteca Uscivi Cercavi di conoscere Ora è tutto Messaggistica App Esatto Anche lì Secondo me si ritornerà Indietro Perché poi la gente Se Io spero Fa schifo Io lo spero Se rovina Su quello Ma come in qualsiasi ambito Poi della vita Alla fine Se ci pensi Il modo anche Di insegnare Cambierà Ritornerà indietro Qualsiasi cosa C'è un video Che fa paura Che fa vedere Come usano L'intelligenza Artificiale In Cina Per insegnare Ai ragazzini Non so se l'avete visto Che addirittura Riescono a controllare Gli mettono una specie Di cerchietto Riescono a controllare Quando è che non Non prestano attenzione Tipo se accende La lucetta rossa Quando sono distratti Fa paura Ci vedete Le classi Di questi bambini Che con Ipad Tutto Per studiare Metodi di apprezzione Alla fine Però certo Dipende sempre Sì però Io non posso stare Sei ore Attento sempre C'è Impossibile Appunto Ti dicevo Secondo me è utile Per studiare La modalità migliore Dello studio Dell'attenzione Visto che c'è chi dice Mi trovo bene a lavorare 50 minuti Faccio 10 minuti Ah certo In senso Un breve Concentrato È una statistica Quindi se tu Magari su una scuola O su 100 scuole Imposti il suo sistema Però come strumento Non de Controllo Ma d'analisi Può essere efficace Perché tu dici Ok su 10.000 ragazzi Mediamente La spanna D'attenzione Mari nel 2023 È dei 40 minuti Può essere che nel 2040 È dei 15 Certo Oggi La guerra Come diciamo Prima Stavo a fare L'esempio Della campagna pubblicitaria La guerra Veramente è l'attenzione L'attenzione Delle persone Ma anche Quella che riesci A usare tu L'attenzione tua Su delle cose giuste Sta tutto lì Facciamo gara Chi prende l'attenzione Gli altri Per vendere E allo stesso tempo Magari ci perdiamo Noi tempo La nostra attenzione Preziosa Su le cavolate In giro Io spesso Guardo magari Anche quanto sto sul telefono In carità C'è lavoro anche Però Magari spesso Volentieri Mi accorgo Solo guardando le ore Che ho passato Un'ora e mezza Su TikTok Sì perché Non te ne accorgi Non a lavorare Non a lavorare Beh sul TikTok Oddio potresti dire Che stai studiando Gli altri Che tipo di contenuti creano Ti dai gli scusi Come fai Lo metto spese aziendali Perciò no Ma c'è Stavo a lavorare Poi dice Che stavi a lavorare Boh I DM non ci stanno Il video pubblicato Delegato Boh Stavo guardando i competitor È una scusa fine a se stessa No però ecco Tutta la tematica Stare lì In focus E saper Lavorare Sulla propria attenzione Attenzione agli altri Anche capire come studiare No Questa Una cosa che secondo me Adesso in Italia C'è un'azienda Che fa formazione su questo Ma che secondo me Molto interessante Cioè su cosa? Su metodi di studio Ma non c'è solo Una azienda Sì no Ne avevo viste una Che però mi era piaciuta Proprio Non è metodi di studio universitari Proprio metodi di apprensione In generale Sì sì No ma questo già l'avevo visto Perché Sempre tornando al discorso Famiglia e figlie Una delle prime cose Che farò studiare alle mie figlie È come studiare Esatto Come cercare di apprendere velocemente Che non era Il vecchio metodo Che sottolineavi Ripetevi E poi dopo Non ti ricordavi nulla E riguardo all'istruzione Alle figlie Che c'è l'intenzione De fai seguire Diciamo come Scuola privata Scuola pubblica No scuola privata per forza Perché comunque Sono orientato verso le lingue Ok Perché loro già Cioè loro Mia figlia più grande C'ha un anno e mezzo Quella più piccola 20 giorni Già parla cinese Ma a scuola Le parlano in inglese E francese E italiano ovviamente Quindi torno a casa E ti risponde in inglese Già un anno e mezzo Vantaggio Assurdo Assurdo Poi Il discorso università Secondo me vale la pena Solo se decidi di fare Un certo tipo di lavoro Vuoi fare il medico Vuoi fare l'ingegnere L'architetto Devi fare l'università Però per il resto Per me non serve l'università E sono laureato Però per il successo Per il successo Non serve L'università Secondo me Neanche in generale Se ti dovi la verità Neanche per determinate mansioni Che tu dici Serve l'università Cioè attivo Cioè se tu ci pensi Anche fa il dottore Ok E non serve l'università Tu pensi che Serva l'università Perché poi per andare a laurea Te chiedono Il certificato dell'università Cioè la laurea Però tanto alla fine L'università È un percorso di studi Ok Se io domani Ti faccio un esempio Mi dici Ti devi fare operare A una cosa anche stupida O anche più seria Da una persona Che si è appena laureata Ma non ha esperienza È una che non si è laureata Ma è stata 5 anni O 6 o 8 gli anni In campo E sono d'accordo A fianco a quello Che sta tutti i giorni Sul settore Rispetto a uno Che sta tutti i giorni Sulla cattedra Io personalmente Mi fiderei più di quello Perché alla fine È quello che tu studi Cioè non è che Se c'è il foglio Lo sai fare la cosa Sì però sai che c'è Quel foglio In questo discorso particolare È come se fosse Una prova Che tu questi argomenti L'hai studiati Cioè io ti posso dire Ho studiato 100 corsi di marketing Tu mi credi Poi vediamo Però sul campo Nel mercato nostro E come in tanti altri mercati La cosa non funziona Nel senso che io oggi Prendo una persona Laureata in marketing Quindi io so Che ha lavorato in marketing E la maggior parte Delle volte Mi trovo un tonto E sono d'accordo No ma io ti sto dando ragione Serve solo come elemento Di differenziazione Ti sto dicendo per un medico Ti sto dando ragione Il pezzo di carta Serve solo per dire Ok ha studiato anatomia Sa che il gomito Si trova qua E non qua Ok Poi dopo ovviamente È l'esperienza sul campo Che ti fa diventare Un buon dottore O meno Esatto Però appunto Però ci deve essere Secondo me Uno standard minimo Che deve essere Per quanto riguarda i medici Perché se no Io avrei paura Di affidarmi a un medico Se non so Sì lo so Però Ti faccio un esempio Noi diamo per scontato Magari Ti posso capire Sulle cose più importanti Dove si fa Un'operazione importante Se magari C'è guardo Ma allo stesso tempo Vado a prendere La persona che ha più esperienza Di tutti E sono d'accordo E la pago E più Sulle cose Magari invece Che so più Ti dico frivole Magari anche semplicemente C'ho un dolore Vado da Un dottore Appena Insomma Che ha appena finito di studiare E mi da Un farmaco O qualsiasi altra cosa Io Solo perché Quella persona là Mi ha detto quella cosa lì E c'è quel pezzo De carta Do che quello è vero Ma chi è che mi sa Dimostrare Il contrario Cioè io spesso Ti dico la verità In tantissime cose In Italia Più Ma anche all'estero Poi non voglio Andrano a discorso Sanità Eccetera Sono stato Diciamo Rigirato Ok Per 18 mila dottori Per risolvere un problema Che in 5 anni Non so se non risolve Ok E quindi Ecco qua Che dall'altra parte Essendo che comunque sia Non c'è sta un discorso Del tipo Come noi magari Facciamo in marketing Testimonianze Cose Cioè il dottore Sei un dottore Quindi vado dal dottore Il dottore ti consiglia Un altro dottore Che magari è stato pagato È tutto un circolo Io non so effettivamente Dove sta la fonte E quindi quello che ho iniziato a fare Non è semplicemente Andare dal dottore De famiglia Ma a vedere l'esperienza Ma a vedere l'esperienza che ho Oh esatto Me la vado a cercare io Me la vado a informare un minimo E a capire la competenza Quella persona Se no ho fatto 5 anni Dei giri 100 di qua 200 di là 300 di là 600 di qua 200 di qua Vai a Roma 3 mesi Al 300 euro a botta E non ho risolto il problema Quindi questo significa che O il problema è irrisolvibile Ma la vedo dura Ok O comunque sia Dall'altra parte Non c'è stata una buona analisi di me E quindi non è che Perché loro sono dottori Non hanno la capacità Infatti non dicevo questo Non è che il pezzo di carta Non va a diventare bravo No no sono d'accordissimo Però quello che dico io È che solitamente Anche nel nostro mondo Tutti siamo d'accordo Nell'idea che Per alcuni lavori Serva la laurea Io non sono d'accordo Neanche per quello Secondo me È tutta esperienza Quindi se c'è fosse domani È come per ditte Nasce il discorso della laurea Poi Arriva azienda X Che si inventa un corso E riesce a averci La diciamo L'approvazione del certificato Università privata Non faccio nomi E quel foglio là C'ha lo stesso valore di qua Quindi cosa evita Che domani C'è un altro percorso Di formazione Anche migliore Che però Per qualsiasi tipo Di contratto Ufficiale Perché poi chi è che decide Chi è che decide Che un corso Ti dà una certificazione E un corso no Io magari Sono cento volte più bravo Ma non c'ho il certificato Quindi per quanto Il sistema funziona così È diciamo In cambiare Modificabile Io sono d'accordo Che se una persona Ha fatto un corso E non c'ha un certificato Lo dimostra Ma a me mi dimostra Che è molto più bravo Di mille altri Per me c'ha più valore Ed è tutto il resto In qualsiasi ambito Poi magari c'è Sta l'eccezione Che se me la dici Dici quell'ambito specifico Ti dico magari c'è Non so cosa ha studiato Cioè si è bravo Ma cosa ha studiato Ok però attanto Il discorso che te faccio è Qualsiasi azienda Stato Ma guarda Dubai Devi costruire il grattacielo Con doppia torsione Che se cambia Ok Non prendi quello che Cioè non prendi una persona Perché è laureata Prendi una persona Perché le sa dimostrare Ma io infatti non dicevo Non dicevo Per costruire Starco qua Chiamerei uno Che è appena uscito Dall'università Ma sto d'accordo Serve per la società No io sono d'accordo Secondo me Quello che dicevo È che il pezzo di carta Serve per dire Ok lui ha studiato Queste cose Solo per questo Adesso poi dopo Bisogna vedere se è bravo O è tonto Però se no Uno magari si sveglia Dice ok io Sono medico Così Dal nulla Perché non c'è un certificato Che divida la questione Quindi ipoteticamente Capito Serve per semplicemente Dire ok Hai studiato Ok adesso vediamo Piano piano Che esperienze hai Come ti comporti sul campo Allo stesso modo Allora ti direi Dato che questo È il sistema Quindi Se alla fine dei conti È solo un mezzo D'approvazione Cosa mi vieta Del fatto che io domani Vado all'università E dico Vuoi fare direttamente gli esami Mettimi alla prova Se sono bravo Mi dai la laurea Per me dovresti essere In grado di farlo Perché tu puoi anche Aver studiato a casa Non esiste Non esiste Non lo so In Italia In Italia Perché all'estero Lo sai in America In America ci stanno I quindicenni Che si laureano Perché sono geni Quindi evidentemente Lì si può fare In Italia Non so se si possa fare Però avrebbe senso Perché l'esame Serve proprio per vedere Se hai studiato Esatto Quindi che tu abbia studiato Seguendo il corso Oppure hai studiato Leggendo cento libri a casa Non cambia niente Esatto Perché poi io credo Che poi nell'apprensione Cioè l'apprendimento Senza la messa in pratica Non l'assimuli È fine a se stesso Quindi comunque Io posso aver studiato 15 anni per prendere Un foglio di carta Io del liceano Non mi ricordo Assolutamente niente Libri di storia Filosofia Matematica Se mi metti in equazione Non la so risolvere Quindi sì C'ho il diploma Ma certo Ma la maggior parte Dei laureati Anche che studia Questa è la mia Appunto per me Come dico sempre Io sono il primo Che ama la formazione Quindi semplicemente A me piacerebbe anche Fare l'università Non la farei sicuramente Con lo scopo Di un lavoro O di qualsiasi cosa Il motivo per cui Non ho scelto di farla È semplicemente Uno scambio di tempo E il risultato Che mi porta A quel tempo Cioè Per me Cinque anni lì Per quanto potevo imparare Tante cose Che mi piaceva imparare Però Magari le posso imparare In un anno O in sei mesi Quelle cose che imparo In cinque anni Quindi per me Non c'aveva senso A livello di formazione Che acquisivo O tempo che ci dovevo dedicare Infatti credo Che meno l'85-90% Di chi fa l'università Ci va per lo stile di vita Dell'università Cioè Altre cinque anni In cui non fai un cazzo Arrivi 26 anni Che magari Sei appena uscito E forse C'hai qualcosa da fare Perché Tipo io Ho un miglior amico mio Ha fatto un'università Con uno scopo ben preciso Per un risultato ben preciso L'ha fatta allineare Senza bucchi Senza uscite Senza niente Sei laureato O l'altro lavoro Perfetto Ma se io guardo in giro Tutti gli amici miei Dell'età mia Che al giorno d'oggi Stanno ancora finendo L'università Li vedo Mi fanno Oh l'ho visto Che sei sempre in giro Grande complimenti Faccio Eh tu che fai Ah io studio Grande Quasi finito Ce l'hai fatta Bravissima Che vuoi fare dopo Eh perché quelle Ci abitano così Che dobbiamo solo studiare Per poi trovare un lavoro Ma che lavoro Non si sa Esatto Quindi capito È la concezione Poi dopo Sui motivi per cui È strutturato così Si Si Se va per le lunghe Però secondo me È tutta una Una questione De regole Autoindotte Che però Non c'hanno Una Secondo me Una base solida Quello che secondo me Ci sono le leggi O le regole Sì qualcuno Te le ha imposte Non per forza Se sta scritto Su una legge Su una costituzione Qualsiasi altra cosa Deve essere giustamente Cioè io valuto le cose Per la mia Capacità cognitiva Se per me una cosa Non c'ha senso Non c'ha senso Poi magari Mi adeggo Perché Diciamo Non rispetto Di x regola Magari mi porta Un qualcosa Che non voglio Però So io A capire se una cosa Va bene O non va bene Con il mio pensiero critico Ho sviluppato Una cosa che Secondo me Durante il periodo Di formazione È importante È sapersi porre Le giuste domande Cioè qualsiasi ambito Della tua vita In qualsiasi settore Quando sei appena nato A quando stai per morire Se tu ti sai Porre le giuste domande Nella vita Non ci avrai mai problemi Cioè se tu oggi Sei in grado Di prendere Non so Finito la scuola Non so che fare Vado all'università Prendo il lavoro Quali sono le altre alternative Può essere una bella domanda Invece di dire Mi è stato detto questo Lo faccio Quali sono le altre domande Mi informo C'è un potere decisionale Però lì vai su un altro discorso Perché non tutti Vogliono O sono in grado Di prendere decisioni così No? Cioè sono più Le persone che seguono Quello che gli viene detto Piuttosto che dire No faccio una cosa diversa Sono d'accordo E purtroppo Allo stesso modo Ti dico Se io dovessi focalizzarmi Su qualcosa Durante il periodo Di formazione Secondo me È una delle cose migliori Ma come nel business Cioè Se tu sei in grado Di dire Ok Questo è il problema Come dici tu Questo è il problema Ok Perché ho questo problema Quali possono essere Le soluzioni Cerco Ci sono tre soluzioni La soluzione una Non c'ho abbastanza traffico Soluzione due Non so vendere Soluzione tre Non so creare un'offerta Ottimo Vai Come posso aumentare il traffico Su Google YouTube Vai Tre video All'interno del video Spiega Devi fare i Facebook ads Non so fare i Facebook ads Risotto il problema Come fare i Facebook ads E inizi a creare Una ramificazione D'informazione Fino a quando Non chiudi il quadro Ok E questo è un altro problema Che vedono le persone Magari alcuni iniziano a informarsi Prendono informazioni Ma non chiudendo il quadro Non comprendono il concetto E tra tre giorni Non lo sanno più Perché sono convinti Che basti quelle informazioni Per risolvere tutti i problemi Del mondo Mentre in realtà Quelle informazioni Ti portano un'altra informazione Che ti porta un'altra informazione Che ti dà una strategia Però poi dopo Ti serve un'altra informazione Per implementare meglio Quella strategia È una continua ricerca Di informazioni Il punto è anche faticoso Cioè alla fine Il 99% delle persone Segue il gregge Capisce che è molto più facile Adattarsi a quello che fanno tutti Senza farsi domande Perché anche farsi domande È faticoso comunque Cioè Persona che è molto più facile A dire Ma si vedo Quello che ti dicono i genitori Quello che ti dicono gli amici Mettersi lì E dire Ok cosa vuoi fare nella vita Mi piace questo Vai lì Devi fare un'altra domanda Ok Queste sono le opzioni Ma per fare queste opzioni Devo scegliere questa via Piuttosto che devo magari andare all'estero Devo spostarmi da casa Insomma Ogni scelta poi ti porta A delle conseguenze La gente è pigra Questo è il punto È vero Che ci hanno abituato A essere così Eh ma su Secondo me Ti giuro Io lo vedo su me stesso Perché sono abituato a parlare Per quello che provo E per quello che studio Per quello che faccio No Le cose solo E tanto poi dopo Avendo fatto anche formazione Ho visto che tante cose Magari tanti dubbi Tante domande Tanti periodi Che in cui ho affrontato Li ritrovo Lo vedo proprio Magari a pelle Questo sai In quella situazione È là E spesso e volentieri Magari È proprio porsi Le giuste domande Anche al giorno d'oggi Magari guardo l'azienda Guardo magari tutti i CRM Le cose E dico Cavolo Il problema nostro Sta qui Io sta cosa Non la so Google Come Lavora Quali sono le mansioni Di un HR manager Quando Quando Volevo inserire una persona Che fa Inseriscono una persona Ma che devi fare Quali sono le task Adesso usciti Tre o quattro video YouTube Pazzeschi Cioè no Questo deve preoccupare Questo 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 Prima di guardare quei video Ero convinto Che il HR manager Si occupasse solo Di inserire le persone In azienda Non di curare le persone Che già ci stanno Pensate quanto sono stupido Ok No Che non lo sapevi Esatto Però quella roba lì Ho scoperto con YouTube Da lì ho detto Ok Queste sono le mansioni Come si fa questa mansione Trovate un altro YouTuber Che ne parla Ok Persone Che aziende Che 100 milioni Quindi Che a me mi hanno dimostrato Date la mano C'è un'affidabilità Questo è Anche il comprende Da quello da cui Prende informazioni Non guarda il guru Del business Non essere nuovo Innovativo E studi in un altro pezzetto Studi in un altro pezzetto Studi in un altro pezzetto E io così Risparmio un sacco di soldi Informazioni in vari guru Che magari ci prendi Le sole E riesco a portare a casa L'informazione Che mi permette Di crescere E con l'effetto compound Se tu lo fai per tutti Come si dice La frase È un 1% ogni giorno Sì sì Vabbè Roba tolte Roba immodivazionali Saltà sulle sedie Tu lì migliori veramente Cioè riesci a risolvere Dei problemi E lo stesso Penso che vale Per le reazioni Per la salute Per qualsiasi cosa È stato tutto là Quindi se tu Secondo me Se dovessi dare Una skill Della vita Non è quella Sviluppare il pensiero critico Sviluppare un pensiero critico E andare a fare le giuste domande E a cercare le risposte Al giorno d'oggi Trovi tutto Lo diciamo sempre Su Google c'è tutto Soltanto che nessuno Clicca sulla barra Google Cioè cerchi solo YouTube La gente cerca Fortnite Gossip Girl Amici Maria di Filippi Eccetera eccetera Quindi rimani Su quel circolo là Poi Google Instagram Facebook Tarfano Vedi quella roba Alla Stai nel tuo mondo Ci sono mille altre cose Che se non ti metti mai a scoprire Non impari mai Che business Sono un business Tipo una cosa che faccio io Che è super divertente Ogni tanto apro YouTube E navigazione in incognito Perché se no Mi fa vedere sempre le stesse cose Cioè vedo solo Ormosi Iman Cioè vedo sempre loro Ok Quindi tu impari solo quello Ma riapri una volta E vedi quello che sta costruendo Non lo so Impalcatura da solo E impari quella skill lì Impari quella Su tutte le cose Puoi imparare da là Vero Suona la chitarra Piano forte Tra l'altro Sei appassionato di vini Abbiamo un cliente Che parla dei vini Su YouTube Quindi È sempre lì Quindi se fa quella cosa là Secondo me Nella vita Ci avrai comunque i problemi Però li affronti meglio È vero Dopo questa massima Dopo questa massima Non mi lasciate la parte finale Del tutto Dai Dai facciamo un Un brindisi Un brindisi Al pensiero critico Vai Al pensiero critico Ci arriveremo Ragazzi Grazie Per essere stati Anche in questo episodio Grazie a voi Grazie a Gabriel Che l'ho fatto da Da co-host È il grande boss Manfredi Lombardi Qui sotto vi lascio Tutti quelli che sono Riferimenti Insomma La sua azienda I suoi progetti I suoi servizi Così che se volete andare Insomma a visionare Noi siamo molto contenti Di parlare di persone in gamba Che hanno voglia di fare E che hanno pensiero critico Per portare Risultati Grazie Alla grande Ciao